Buon pomeriggio amici ascoltatori e ben trovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma. Trentesima giornata di Serie D, Girone F, si affrontano Trastevere e Vasto Girardi. Rimessa Trastevere, giocata, mette giù Sannipoli, corsetti, tutto di prima, lancio poi verso la penna di testa, restituito il pallone con Proia che va a calciare. Largo alla sinistra della porta, splendida azione, applausi di tutto lo stadium. Il tocco con Mancino, Macri verso la penna, riceve ancora il numero 10 che va a calciare, questa volta preciso di Stasio, l'alza oltre la traversa. Cervoni, sbagliato il tocco di ritorno, la può girare Prado, ancora però Trastevere, Proia, pallone verso Corsetti, posizione irregolare col pallonetto che finisce in porta ma si è alzata ancora, appoggio verso Macri. La corsa di Crescenzo che può andare al cross, ancora Crescenzo dopo il rimpallo in area di rigore, il tocco fuori, Cervoni col destro, di Stasio e poi Proia! Il vantaggio della Trastevere, Daniele Proia al posto giusto, al momento giusto, 1-0 al 31esimo minuto. Intervento di Minchillo che in qualche modo serve un compagno, attenzione Crescenzo, passa davanti all'avversario, ha visto Corsetti in area di rigore, Corsetti, di Stasio, il pallone è ancora vivo alla fine, Montuori ad allontanare. Si può battere, la rincorsa di Macri, il sinistro sul muro, insiste ancora Tarantino, Pasqualoni! Pallone raccolto però da Cervoni, poi Crescenzo, Proia ha un po' di campo, potrebbe calciare, ma Proia di Stasio si allunga! Finisce a terra al limite dell'area ma non c'è nessuna irregolarità secondo la Terna, attenzione all'esterno, splendido di San Nipoli, Crescenzo dentro, Corsetti! Ed è rete, tra Severo e 2, vasso Girardi 0, Claudio Corsetti! Sono saliti anche Tarantino e Pasqualoni, il pallone sul secondo palo, c'è San Nipoli da quella parte, il colpo di testa a liberare, Pasqualoni contro Cross, Tarantino lascia scorrere, Proia di prima, arriva il pallone, Corsetti! Alto sulla traversa, in fuorigioco ancora il numero 9, pallone passa col petto, poi attenzione a San Nipoli che strappa molto bene in mezzo a 2, vuole calciare San Nipoli che non trova la porta ma ancora una splendida giocata del numero 4. Ancora San Nipoli che blocca quest'azione, però ancora Vasto Girardi, guida, attenzione al pallone ancora vivo, sinistro di Salatino che sfiora la traversa e questa è l'occasione più nitida capitata al Vasto Girardi. Il numero 8, poi guida Gargiulo di prima al centro, sbuca Proia che riceve l'1-2, ancora Daniele Proia, la sposa sul mancino, ancora Proia, vuole andare a calciare, lo fa Proia di Stasio, si oppone! Il suono infatti arriva, in questo momento è il triplice fischio del signor Eremitaggio, vince il Trastevere, torna a vincere in casa, seconda vittoria consecutiva in casa per i ragazzi di mister Mauro Mazza.